Ti servono crediti? Passa da fifacoinszone.com e con il codice sconto GAMERS24 riceverai il 6% di sconto Bella a tutti ragazzi sono Amine e sono qui su FIFA GAMERS24 per spacchettare ancora per i most consistent Quindi signori adesso siamo qui di nuovo per spacchettare sullo stesso team of the season ovvero sui most consistent Quindi signori ci sono i pacchetti da 25.000 e da 15.000, proveremo ad aprirli tutti e due, vedremo quali sono i migliori e ce ne andremo ad aprire un po' Poi se dovessero uscire i pacchetti da 50k o da 100k stasera continueremo lì il pack opening Comunque partiamo subito con un pacchetto da 25.000 crediti Vediamo chi troviamo signori Nel pacchetto da 25.000 nessuno di interessante signori, nessuno di interessante Quindi andiamo a scartare il pacchetto e andiamo a aprirci un pacchetto da 15.000 crediti Vediamo chi possiamo trovare in questo pacchetto Nessuno, abbiamo trovato Vardi, ci mandiamo la lista di trasferimenti ma nessun altro Quindi abbiamo trovato 3.000 crediti, buona buona buona, big money Ecco qui un altro pacchetto da 25.000 crediti Schippiamo e troviamo Ramsey e Mané, ok mandiamo Ramsey Altri tots oppure giocatori fortissimi, vediamo un po' Difensore centrale, no, Javi Martinez Leo Messi, Leo Messi, portaci fortuna Ter Stegen Ok Eccolo Goetze, subito Goetze va benissimo Questi due giocatori già miglioriamo, alziamo la qualità Quindi signori apriamoci gli altri pacchetti Vediamo un po', 350 FIFA Points che se ne vanno così signori Eccolo, schippiamo Oh Carlo sbacca, niente di niente di niente Ok ragazzi, se vedete che è cambiata luce in quadratura Non preoccupatevi, è solamente che aspettavo i pack speciali ma purtroppo non sono usciti Dunque andiamo avanti a spacchettare Abbiamo un altro pacchetto da 25k Vediamo cosa c'è La TT Lukaku Lukaku buono, buono Andiamo con il prossimo pacchetto da 25k Crediti E c'è Martinez Martinez, buono dai, va bene Ok signori, altro pacchetto da 25k Crediti, andiamo a trovare Cicci Tedesco De Schweinsteiger E Casorla, buona, buona, buona Dai signori abbiamo ancora 4 pacchetti da 25k Crediti da aprire E ce li apriamo tutti Eccolo il primo Nel primo non c'è nulla Un ulteriore pacchetto da 25k Crediti Douglas Costa Vai così E andiamo E andiamo, e andiamo Così va già bene Douglas Costa Mi piace Andiamo a aprire questi pack da 15k Crediti Troviamo William Buono, buono William Buonissimo Altro pacchetto da 15k Crediti Vediamo cosa c'è al suo interno Jordi Alba Vai così Jordi Alba Altro pacchetto Vediamo cosa contiene Cicci Nengolan Dunque signori Il pack opening Finisce qui Appunto Io ovviamente Spero che il video vi sia piaciuto Se così fosse Vi ricordo di lasciare un like E un commento Per supportarci Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi Ci vediamo alla prossima Bella Ciao Ciao Ciao